Amici di Battista70Fone, oggi vi presento le bellissime cover Nilkin Frosted per LG G3. Abbiamo tre colorazioni, come potete vedere. Abbiamo il classico nero, color oro per i più fashion, oppure bianco per quelli più, diciamo, tra virgolette, austeri. Tutte e tre hanno la medesima trama sul retro, come potete sentire non è liscia, quindi forniscono un ottimo grip, completa copertura laterale ed aperte sulla parte superiore. Andiamo a vedere come calzano, prendiamo quella oro, facciamo i fashion, andiamo a chiuderla, come potete vedere aderisce perfettamente, rimane un minimo di bordo sul fronte, di modo che se dovesse anche caderci non vada ad appoggiare direttamente. Come potete vedere anche la fotocamera rimane ben protetta, perché comunque non va ad appoggiare direttamente sulla superficie, quindi non si graffia il vetro, rimane ben accessibile, ben scoperto lo speaker del volume. Sopra è completamente accessibile, però se notate c'è un minimo di gradino, anche qui in caso di caduta, una minima protezione la dà e anche sotto idem. Come sentite dà un ottimo grip, la parte dietro, ripeto, non è liscia, di conseguenza aiuta nell'impugnatura e nell'evitare scivolamenti. Come potete notare, rimane tutto ben accessibile, nessun tipo di problema, il tasto del volume funziona benissimo, vi accedete tranquillamente, la fotocamera non ha nessun tipo di riverbero o cose strane, rimane ben protetta. Come vi dicevo abbiamo questi tre colori, nero, gold e bianco. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Full.